ok vediamo se perfetto ciao a tutti ragazzi come state allora anche oggi bellissima live di sabato pomeriggio e per bologna cavolo ho visto già nei commenti davvero mi è dispiaciuto non esserci purtroppo non ce l'ho fatta ma ci si rifà a roma per chi di voi c'è oppure in futuro insomma in altri eventi ci vediamo comunque dai avremo la possibilità di vederci tra l'altro magari potremmo organizzare di nuovo qualche evento come quello che abbiamo fatto a Desenzano molto più libero quindi senza una vera e propria conferenza semplicemente per radunarci un po' magari anche non per forza qui nel nord magari anche un po' più in giro per l'Italia insomma vedremo dai invece oggi volevo partire con qualche notizia non troppe anche perché tra l'altro prima sono andato a mangiare il sushi mi sono proprio sfondato quindi se dico cose che non hanno senso il motivo è quello lì ma magari correggetemi nella chat direttamente comunque sicuramente il mercato non è proprio simpaticissimo ma già ieri pomeriggio in realtà era così per cui ci stiamo già abituando ormai da un giorno infatti anche le percentuali quelle giornaliere sono di nuovo sullo 0% perché più o meno già ieri eravamo a questi prezzi qua invece partendo subito con delle notizie interessanti poi vado a vedere che già mi avete fatto delle domande all'inizio e rispondiamo dopo dunque innanzitutto parlando un attimino di Evmos visto che è un progetto che ha lanciato da molto molto poco nel particolare probabilmente da una settimana adesso una settimana e mezza due aveva rilanciato la sua chain vi ricordo infatti che Evmos è quella blockchain e WM compatibile che però è basata sui Cosmos SDK ok quindi per intenderci è un po' come la Kronos chain semplicemente che non è legata ad un progetto molto centralizzato come Crypto.com e stanno partendo gli incentivi in particolare sia liquidity mining diretto pagato quindi diciamo nel token di Evmos che è appunto Evmos infatti qui possiamo vedere questo tweet dove sostanzialmente viene annunciato un programma di incentivi che andiamo a trovare un pochino più sotto eccoli qui quindi sette progetti che riceveranno ognuno 115.000 token di Evmos e nel particolare i progetti sono questi qui che per intenderci sono più o meno i medesimi progetti che avevamo incominciato a vedere anche già forse un mese fa con il video in cui avevo fatto proprio un approfondimento sui progetti iniziali del mondo Evmos che sono proprio questi qua quindi giusto per enunciarli di Fusion Finance, Midas, Kinesis, Saddle Finance, Ex, Swap, Kronos e Crossland e più o meno si distinguono tutti tra DEX quindi exchange in cui poter fare trading e piattaforme di lending in cui invece poter depositare eventualmente le proprie criptovalute e prendere dei presti insomma ci siamo abituati e per quanto riguarda il liquidity mining a mio avviso lo vedremo nella classica forma in cui l'abbiamo già visto più volte quindi che la piattaforma stessa oltre ad incentivarti magari con il suo token proprietario per aggiungere la liquidità o semplicemente per usare il servizio ricompenserà anche direttamente pagando con il token della chain quindi la vera e propria moneta Evmos che viene utilizzata poi anche per pagare le fee sulla chain questo l'abbiamo visto per intenderci anche su Avalanche quando era partita la AvaRush o anche su Polygon un anno fa addirittura forse più di un anno fa quando usare la blockchain di Polygon nel particolare quando usare Aave su Polygon o Curve su Polygon ci ricompensava direttamente nel token Matic che era appunto che è tuttora la moneta del protocollo tra l'altro non so se ve lo ricordate ma pagavano anche molto all'inizio cioè il programma di incentivi di Polygon che è stata una delle prime chain a lanciare proprio gli incentivi direttamente sotto forma di liquidity mining e pagava veramente molto soprattutto all'inizio si potevano fare dei giri molto interessanti come depositare su Aave prendere in prestito e mettere su Curve e si veniva pagati molto sotto forma di token Matic qui il discorso è un po' analogo quindi queste piattaforme riceveranno questi incentivi in Evmos e verremo ricompensati per utilizzarle sostanzialmente non ho visto un timing almeno non mi sembra di aver visto un timing leggendo questo post immagino comunque che non sia né troppo lungo né immediato quindi probabilmente nel giro comunque di qualche settimana credo che vedremo live anche queste cose qui quindi questo programma di incentivi avrà finalmente la luce e magari potremo anche parlarci un pochino più nel dettaglio quando si sapranno più cose no più informazioni legativamente a questa cosa qui sempre rimanendo su Evmos così chiudo il discorso Evmos un attimo se vi ricordate settimana scorsa vi avevo accennato a questa proposal che era nata nel mondo di terra e che voleva vedere anzi che vedeva UST come un incentivo sulla chain di Evmos quindi nel particolare l'idea era quella di dire incentiviamo questi protocolli che sono su Evmos finanziando direttamente con UST in modo tale che comunque UST diventa una stablecoin utilizzata anche su Evmos quindi una sorta di situazione win-win win per Evmos che riceve sostanzialmente un liquidity mining pagato in UST e un win per il mondo terra barra UST perché UST diventa sempre più utilizzata anche al di fuori dell'ecosistema di terra che come ormai abbiamo capito è un po' il loro ecosistema è un po' il loro obiettivo scusate nel particolare avevamo visto anche quali erano i protocolli e quanto erano l'ammontare di UST che andavano a ricevere se date un'occhiata a questi protocolli e date un'occhiata ai protocolli che c'erano prima sono veramente gli stessi cioè diffusion, ex swap, seddle, kinesis, midas, cosland e cronus quindi più o meno capite che stiamo parlando dei principali protocolli quando prendiamo a riferimento questi e il sa che gioca brutti scherzi il sa che non credo di averlo preso comunque a parte questo è passata la proposal è passata quindi effettivamente incominceranno anche qui a incentivare queste piattaforme direttamente con UST quindi sarà interessante vedere quando magari fra qualche settimana tutti questi incentivi incominceranno a partire perché da un lato abbiamo gli incentivi classici quindi i liquidity mining classico del token del protocollo poi abbiamo il liquidity mining per quanto riguarda EVMOS quindi pagato direttamente nel token moneta della chain e infine c'è anche questo liquidity mining che non è enorme cioè non stiamo parlando di un programma di liquidity mining gigantesco però sono in totale circa 3 milioni lo vedete qui 3 milioni di UST che verranno distribuiti tra questi protocolli quindi non sarà tantissimo ma non è nemmeno da buttare via e quindi magari sarà interessante andare a vedere come effettivamente queste piattaforme ricompenseranno noi utenti per andare ad utilizzarle magari ripeto soprattutto verso l'inizio potrebbe essere qualcosa di iper interessante andare ad approfondire rimarremo aggiornati su questo ovviamente visto che sono passate entrambe queste proposal sia questa che quella del liquidity mining riguardante direttamente a EVMOS ok ecco avevo visto delle domande riguardanti Polkadot infatti per mettere a rendita i DOT cosa ne pensi di BDOT su Binance? ci sta BDOT su Binance adesso BDOT non ricordo per cosa stavano i BDOT non vorrei però che stessero per tipo i DOT sulle parachain quindi non BDOT onestamente non ricordo cos'era per quanto riguarda comunque Polkadot secondo me è interessante incominciare piuttosto che utilizzare i classici exchange quindi Binance o anche Kraken che permettono di mettere in staking i DOT direttamente sarà interessante incominciare a vedere le varie parachain che effettivamente incominciano a dare la possibilità per esempio del liquid staking vi facevo vedere l'altra volta che Parallel già dà la possibilità di mettere in staking liquid staking i propri DOT a breve anche Akala aprirà al liquid staking infatti io stavo aspettando magari che lo aprisse anche Akala per farvi un tutorial di entrambe le possibilità quindi il liquid staking di Akala il liquid staking di Parallel per vedere un po' se volete le differenze anche gli step non sono tanto difficili quindi magari qualcuno di voi l'ha anche già fatto ad ogni modo penso che possa essere interessante farci un video in cui ve lo faccio proprio vedere così uno può avere anche quello come riferimento e poi scegliere in base a quello che predilige per cui ecco personalmente più che rimanere sull'exchange magari andare a vedere le opportunità che incominciano a nascere sull'ecosistema Polkadot vero e proprio può essere più interessante se uno comunque vuole rimanere sull'exchange ok i bidot erano quelli delle aste paraceni infatti no allora più che i bidot andrei a guardare magari lo staking quindi per quanto riguarda lo staking sia Kraken che Binance offrono la possibilità di mettere in staking i dot Kraken mi pare che dia un 12% Binance dipende da quanto che lasso di tempo andate a scegliere perché sapete che su Binance potete mettere tipo 30, 60, 90 giorni e in base a quello talvolta può dipendere il rendimento poi Binance a volte chiude lo staking quindi non potete più depositare a volte lo riapre quindi bisogna un pochino anche rimanere più sul pezzo il token DOT comunque ha perso un bot hai ragione cioè andando a vedere proprio CoinGecko vabbè che adesso è un po' falsata la cosa perché ripeto è ieri che è corollato di brutto però tipo il settimanale comunque è meno 12% hai ragione ok quindi su DOT secondo me ecco questo è un po' il mio parere cioè piuttosto che rimanere sull'exchange incominciare a guardare un po' al di fuori e vedere proprio quello che si può fare veramente all'interno dell'ecosistema ciao e per concludere il gioco sulle carte dunque il discorso riguardo le carte ti consiglio di dare un occhio anche a Wirex o a parlarne se non la conosci no non lo conosco l'ho visto comunque nei commenti questo nome di Wirex Card e me la andrò a vedere perché non la conosco proprio e me la andrò ad approfondire ti ringrazio comunque perché ho visto che comunque nei commenti veniva citata Wirex che a quanto pare ha ha anche evidentemente dei cashback importanti o comunque dei benefit importanti ecco io uso Wirex ecco perfetto e ti trovi bene? immagino nel senso immagino di sì se la usi giustamente ciao è la tua opinione per rendere bitcoin senza vincolare senza vincolarli immagino dunque se vuoi rimanere se vuoi rimanere tra virgolette in Cefai e quindi senza uscire sulla blockchain vera e propria di bitcoin o addirittura su altre blockchain in forma wrappata appunto c'è FTX l'applicazione fino a 10.000 dollari ti dà l'8% oppure nel momento in cui magari superi 10.000 dollari puoi andare su piattaforme classiche come Nexo come Celsius come Led che ti permettono di ottenere delle rendite direttamente sui tuoi bitcoin se invece vuoi andare in DeFi dipende qui le possibilità sono molte molte di più però devi uscire da bitcoin cioè non sei sulla vera blockchain di bitcoin e quindi può essere diversa l'evento gratuito con CZ ci sarai? certamente quindi a Roma martedì se ci siete ci vediamo lì perché ci sarà l'evento in cui viene il mitico CZ il CEO di Binance e sarà una grandissima serata quindi sì effettivamente se ci siete ci becchiamo direttamente lì ok prima di passare un attimo alle altre domande volevo farvi vedere quest'altra proposal visto che abbiamo citato Terra anche prima non so se l'avete già vista ma finalmente sta arrivando anche la proposal per far arrivare B-SOL come collaterale su Anchor Protocol quindi era praticamente uno dei pochi che mancava adesso probabilmente almeno in linea teorica mancherebbe ancora B-DOT che era stato aggiunto nel white paper e vabbè la proposal semplicemente spiega le motivazioni per le quali dovrebbero aggiungere anche B-SOL ma secondo me sono quasi scontate le motivazioni c'è soltanto un bene che anche B-SOL venga aggiunto come collaterale per Anchor Protocol ovviamente B-SOL è la versione wrappata di ST-SOL che è la versione di Lido Finance in staking di SOL nel momento in cui si sceglie di avere B-SOL le reward dello staking non vengono più pagate sotto forma di Solana ma è in UST e sono claimabili dagli holder dei B-SOL e poi quando si usa B-SOL su Anchor Protocol quindi si sfrutta come collaterale a quel punto gli UST non vanno più al proprietario ma vanno direttamente al protocollo Anchor Protocol che li usa per pagare gli holder di A-UST che è il classico modello di business che abbiamo imparato a conoscere di Anchor Protocol tra l'altro nel mentre bevo perfetto devo bere perché devo mandare giù il sushi no? ok comunque dicevo questa qui è una proposal che secondo me verrà approvata a mani basse nel senso non ci sono motivi per non approvarla anche perché danni collaterali nel senso non ce ne possono essere in quanto va semplicemente ad aggiungersi rispetto a tutti quelli che già ci sono quindi c'è come dire c'è Atom hanno messo AVAX hanno messo chiaramente Luna hanno messo Ethereum adesso arriva anche Solana e in futuro ovviamente non posso ipotizzarlo con certezza assoluta però probabilmente arriverà anche DOT visto che se andate a prendermi il white paper è una di quelle monete che era già stata citata nel white paper oltre al fatto che è una di quelle monete che utilizza la proof of stake quindi può essere introdotta ok quindi positivo per Anchor Protocol in generale perché stanno finalmente aggiungendo più collaterali e con da una parte l'aggiunta di nuovi collaterali dall'altra le riduzioni dello yield date a chi mette sostanzialmente in staking o comunque che deposita gli UST diventa tutto un pochino più sostenibile ok L DOT e L KSM verranno aggiunti saranno i liquid staking si penso proprio di si probabilmente verrà aggiunto prima DOT e magari in futuro anche KSM però insomma staremo a vedere sicuramente verranno aggiunti comunque io penso proprio di si ripeto erano stati già inseriti addirittura nel white paper ah l'hai mai sentito parlare di Neptune Finance si potrebbe si dice potrebbe contribuire a risolvere il problema della yield reserve cosa ne pensi è Neptune Finance l'ho sentito però non mi ricordo esattamente in questo momento che cosa dovrebbe essere proviamo a cercarlo potrebbe essere questo qui si a questo punto mi sembra che sia questo no guarda ti ringrazio perché me lo segno proprio non l'avevo secondo me l'ho già sentito perché come nome mi sembra familiare però ti dico la verità non l'ho mai approfondito e sicuramente il sito ufficiale non l'ho mai visto fatto anche molto bene devo dire mi piace su Kugira già sono apparsi hai ragione hai ragione su Kugira già sono apparsi a Kala nel particolare e quindi anche per quello secondo me è una notizia che fa capire che c'è legame tra l'altro anche con Wormall hanno fatto una partnership con i di Akara e tant'è che secondo me L.dot che verrà portato su Anchor Protocol sarà L.dot brigiato utilizzando Wormall mia opinione però visto l'andazzo che stanno prendendo secondo me sarà in questo modo se poi mettessero anche Bicrow allora io faccio l'in ma guarda io ti dico la verità non vedo motivo per il quale Anchor Protocol non debba aggiungere il più monete non dico possibili però almeno tipo le blue chip comunque ormai CRO non è una moneta scarsa quindi il fatto che le persone che detengono CRO possano andare ad utilizzare appunto i propri CRO per metterli a collaterale perché no dove si ottengono i Bicrow no non esistono i Bicrow in questo momento quindi è un'idea di Alino983 che però io condivido onestamente ma non non è live diciamo non è un qualcosa che si può fare in questo momento ciao le pensi che la cap di UST possa superare quella di terra nel caso sarà una cosa positiva in più hai visto gli ultimi aggiornamenti su Stader e il vesting del token SD grazie di tutto sei un grande dunque secondo me si può avvenire che la capitalizzazione di UST può superare quella di terra tra l'altro vediamo vediamo quanto manca del tipo cioè proprio per farci anche i calcoli quindi siamo 25 miliardi contro 18 miliardi bisognerebbe fare anche il calcolo per capire a che prezzo di terra vanno a combaciare stimando una crescita magari anche costante di UST comunque si può capitare può capitare e nel caso onestamente secondo me non è vi faccio vedere perché magari vi stavo coprendo i numeri scusate ok così vedete 25 miliardi contro 18 miliardi vi dicevo sarà una cosa positiva secondo me non sarà né positivo né negativo nel senso che la cosa può accadere proprio perché non esiste alla fine un legame come cioè non deve esserci collaterale UST capito è una stable coin algoritmica quindi la sua capitalizzazione di mercato è completamente libera e non ha bisogno di avere diciamo l'una che capitalizza più di lei per intenderci per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti su stader e il vesting di token sd ho incominciato cioè ho letto qualche articolo però a memoria non ricordo benissimo quindi non non vorrei andarvi a dare informazioni sbagliate magari me li mi informo meglio me le segno anche almeno nelle note così poi magari nella live di settimana prossima possiamo vederli un pochino più nel dettaglio ok ecco se io mando invece 0.10 bitcoin su celsius ottengo il 6,5% mentre se supero di 0,1 si passa al 3 quindi sarebbe un'idea migliore mandarne magari 0,09 0,09 altrimenti alle prime rewards ottenute si passerebbe al 3% sì chiaramente può essere una strategia che ci sta ripeto per cui why not invece altra informazione che secondo me è interessante rimanendo sempre un po' in ambito diciamo non dico luna però parleremo anche di luna è che si sta per terminare nel particolare terminerà fra due giorni le nuove votazioni per io lo chiamo core in realtà core mi pare che è una sigla che sta per collateralization of reactors event su tokemak infatti vi dicevo termina il 9 maggio alle ore 8 per noi italiani e come funziona? dunque qui chi possiede token può andare a votare su quali reattori far passare diciamo e i primi 5 che per ora sono questi qui quindi luna bit butterfly stg che è il token di stargate e silo i primi 5 passano tra virgolette e passando li andremo a trovare effettivamente qui no? nella loro sezione vera e propria nel particolare nella mappa cioè nella sezione dei token reactors questo è interessante perché se una persona crede nelle potenzialità di tokemak e quindi del suo servizio di liquidity as a service il fatto che ad esempio luna o butterfly o stg o gli altri due silo vengano aggiunti vuol dire che tokemak può andare a direzionare la liquidità anche per queste coppie anche per questi token qui e quindi può essere ovviamente un qualcosa di positivo tra l'altro le votazioni su tokemak bensì sia su ethereum e quindi magari ovviamente con le commissioni che conosciamo sono tra virgolette gratis perché sono gasless quindi semplicemente va fatta una firma ma non è necessario spendere degli ethereum per le gas fee e questo ovviamente è un ottimo risparmio soprattutto è un grande risparmio e è come vi dicevo interessante comunque ah comunque è vero con una capitalizzazione del genere di ust il token terra dovrebbe valere molto di più dunque beh poi considera che per l'appunto cioè il fatto è che con questo mercato così negativo è ovvio che anche terra è calata cioè dai 100 a cui era aveva addirittura più di 100 poi adesso è passato di nuovo a 72 dollari il fatto è che mentre ust ha una crescita molto più costante e se vuoi anche più lenta ma comunque quasi sempre in crescita l'una è molto più volatile quindi se ti fa un più 20% la sua market cap sale tantissimo la market cap di ust non fa mai più 20% in un giorno tieni comunque conto che in teoria la supply di ust potrebbe anche ridursi perché è dinamica la supply di ust soprattutto nel caso in cui ust dovesse perdere il peg negativamente quindi andare tipo a 0,9 0,8 0,97 l'algoritmo di signoraggio in teoria prevede il burning di ust e il minting se volete l'emissione di nuovi luna per andare a riportare il peg sul dollaro esatto ok quindi questo è un po' il ragionamento che bisogna fare ma evmos ha una sua stablecoin dunque in questo momento una stablecoin propria di evmos non esiste nel senso che non c'è quella stablecoin che è proprio tipicamente di evmos ovviamente io mi immagino che appunto ust abbiamo già visto che arriverà magari arriveranno anche le classiche usdc usdt e dai soprattutto perché evmos essendo evm compatibile ha molta più facilità per brigiare da ethereum anche per cui ecco io vedo tranquillamente l'arrivo delle classiche stablecoin anche su evmos almeno a mio avviso poi insomma vedremo ciao le volevo farti una domanda siccome quando collego il ledger a metamask non trovo sempre tutti i token e spesso devo inserirli a mano mi chiedevo in caso di un airdrop come faccio ad accorgermi di averlo ricevuto ok ti hanno già risposto giustamente inserendo il tuo address nello scan perfetto sì chiaramente il blockchain explorer è il mezzo più utile che uno ha a disposizione per poter controllare la qualunque cosa relativamente al proprio indirizzo perché metamask non aggiunge niente di default ah ecco kinesis infatti è già un dex di sole stablecoin su evmos per l'appunto grazie mille garnard perché tra l'altro quei protocolli su evmos mi ricordo di averli trattati in un video ma a memoria non ricordo quale è un dex e quale magari è una piattaforma di landing tranne alcune che hanno già il nome abbastanza comprensibile tipo cosland che ovviamente è una piattaforma di landing eccetera ciao quali sono adesso le migliori soluzioni per mettere la rendita cro la pool con dark è qualcosa di sostenibile che consiglieresti quali sono i rischi la pool con dark guarda esiste da mesi e da mesi funziona però è molto rischiosa comunque perché è il modello dei tom fork quindi quando le cose vanno molto molto male secondo me lì sicuramente il rischio non è non è basso altrimenti la cosa più diciamo a basso rischio è lo staking classico la cosa più ad alto rischio ti direi che appunto è la pool con dark e il medio rischio se aspetti un po' e fai uscire argo protocol secondo me è la combinazione tra argo e più una volta ricevuti i bicro che argo ti dà come liquid staking token magari la possibilità di sfruttare i bicro da qualche parte quindi o fornire liquidità alla coppia bicro cro oppure immagino la cosa migliore come vi avevo detto anche in qualche altra live il poter utilizzare bicro come collaterale per andare a creare per andare a generare la stable coin usc che è quest'altra stable coin del progetto di orbit che però è ancora secondo me un po' lontana io penso che arriverà più che altro verso giugno o comunque fine maggio per cui ecco queste sono un po' le alternative considera che lo staking normale magari non l'ho detto prevede 28 giorni di unstaking quindi c'è questa cosa qui un mese pieno oppure ecco esatto ottimo black chand per i croi è anche ottimo il landing su single finance che è quella piattaforma che avevamo visto anche insieme un po' di tempo fa che permette di fare strategie un po' delta neutral pseudo delta neutral ma queste strategie funzionano perché c'è qualcuno che poi fa landing e quindi si può fare landing per l'appunto infatti ok io per ora uso landing di single finance per l'appunto permette di di guadagnare depositando direttamente i cro quindi senza neanche l'impermanent loss per intenderci perché poi ovviamente ci sono tutte le pool nelle quali uno può andare a desporsi che però magari hanno impermanent loss che però magari hanno anche spesso la diretta influenza di un token di terze parti quindi magari cro usdc ma ricevere le rewards pagate nel token di mmf ad esempio che uno può piacere oppure uno può non piacere insomma invece no poi avevo visto una domanda su usdd che però non la rivedo più eh mi sa che mi sa che lo smart ah no la tua opinione riguardo usdd trx potrà apprezzarsi tanto quanto ha fatto luna nell'ultimo anno in proporzione ovviamente ecco tieni conto che trx parte già da una base molto alta cioè ti faccio vedere trx in questo momento è già diciottesimo e ha già una market cap di 8 miliardi quindi se anche dovesse arrivare ai livelli di luna che insomma non è detto che ce la faccia però dovrebbe semplicemente fare capito un poco più di un per un per tre diciamo che comunque è tanto però non può fare diciamo i moltiplicatori che ha fatto luna nell'ultimo anno perché parte proprio da una base molto molto più elevata anche di capitalizzazione di mercato oltre al fatto che poi adesso tutta la fase di mercato non è così positiva quindi è vero che sta attraversando un periodo magari buon dove sale anche l'interesse però insomma va ancora visto tra l'altro perché è vero che usdd è stato lanciato ma il vero e proprio rendimento abbiamo visto che dovrebbe partire in realtà a partire dal 12 di maggio e quindi dal 12 di maggio andremo effettivamente a controllare che sia così io sono già carico e sono già pronto a fare anche il video e sono molto curioso però come come spesse volte vi ho detto quindi ci tengo anche a ripeterlo personalmente non credo che mi lancerei se non per il fatto che è interessante anche da un punto di vista contenutistico quindi per potervelo fare vedere non so se mi lancerei giusto proprio al day one su usdd o comunque magari lo farei però con una porzione più piccolina giusto per vedere come va se effettivamente paga se effettivamente il peg viene mantenuto poi non so se avete incominciato a vedere ma i come dire i protocolli i progetti istituzionali che fanno parte della Tron Dow Reserve sono pezzi grossi cioè alla fine Tron ha fatto accordi con Alameda anzi andiamo a prendervi la pagina twitter in cui li avevano elencati tutti che poi non è vero tutti hanno incominciato ad elencare i primi vediamo Tron Dow Reserve ok dunque mi ricordo che il primo che hanno annunciato era Alameda poi ok vabbè qui annunciano praticamente di comprare vedete ecco questo non l'avevo ancora visto stanno hanno autorizzato un altro miliardo di usdd nei prossimi dieci giorni nei prossimi sì nei prossimi dieci giorni quindi stamperanno un bel po' di usdd insomma vabbè ovviamente Poloniex che è un exchange però Poloniex tenete conto che secondo me se non ricordo male è sempre di Justin Sun quindi se la sono un po' girata tra di loro il secondo era Amber Group e il primo per l'appunto era Alameda Research probabilmente ne annunceranno anche altri perché non so se si cioè non penso siano solamente tre e quindi come vi dicevo è vero che il rischio se volete è medio alto perché bisognerà vedere con il tempo se mantiene il peg eccetera eccetera però si stanno affidando anche dei pezzi grossi diciamo del mercato istituzionale quindi come dire un po' di sicurezza in più questo a me personalmente la dà non so poi voi di questo cosa ne pensate ovvio che ripeto Justin Sun non è la persona più trasparente non è sicuramente la persona che ha proprio a cuore le leggi e il rispetto delle leggi anzi secondo me lui usa un po' le leggi a sua discrezione cioè se ha la possibilità di malleare un po' le leggi lo fa dove posso mettere a rendita i near magari anche il loop grazie mille perché mi ha consigliato vaporwave dunque vaporwave è quello che conosco anch'io altre tra virgolette altri posti in questo momento non te li saprei dire dovresti un po' magari vedere su aurora se ci sono magari delle pool interessanti che coinvolgono anche i near quindi magari su trisolaris o su altri su altre piattaforme tra l'altro non so se se l'avete visto ma già che ci sono ve lo faccio vedere io adesso com'è che si chiama defayama ha aggiornato o meglio ha aggiunto una pagina che si chiama yield se la trovo dunque che è interessante eccola qui che è interessante vi dicevo perché oltre a darvi la percentuale dell'APY vi dice anche nella colonnina outlook quanto è probabile che questo APY cresca diminuisca o rimanga stabile nel tempo vi faccio un esempio prendiamo eth sth su curve ethereum tvl 4 miliardi e 3 APY 2,65% l'outlook è stable barra up con probabilità del 93% vuol dire che è molto probabile che l'APY rimanga più o meno a questo livello se non addirittura crescere di poco questo è interessante perché ci permette di ottenere quanto meno una stima ricordatevi che sono delle stime sulla stabilità degli APY quindi dei rendimenti molto molto utile secondo me molto molto utile ah come si chiamava il wallet più user friendly di polkadot eh si talisman personalmente io sto usando talisman l'unica ecco voglio dirvi una cosa già che mi avete ricordato questa cosa qui ehm c'è ancora un problema secondo me nel mondo polkadot è che è legato all'utilizzo con il ledger eh perché ci sono un po' di problemi a utilizzare le varie parachain e quindi anche i vari wallet con il ledger ovviamente è un problema che è molto importante quindi è importante che venga risolto veramente veramente a breve ecco talisman si può avere anche per sistemi iso cosa cosa intendi non ho capito scusami cioè talisman è come è come metamask è un'estensione di chrome per dirti non so cosa intendi con sistemi iso per i crow ah no scusami ciovale non pensi che la natura deflattiva o comunque di inflazione controllata di bitcoin nell'ambito della massa adoption lo porti a disincentivare nell'utilizzo da parte degli utenti dunque qui secondo me sta un po' anche sta un po' ok poi ho visto che era ios scusami e non e non iso comunque ti rispondo dopo dunque per la domanda sulla deflazione o comunque l'inflazione controllata di bitcoin sicuramente il fatto è che chi vede bitcoin come asset di investimento non lo vuole spendere no perché dice perché devo spendere bitcoin quando posso spendere euro nell'idea che bitcoin fra tot anni varrà di più quindi sto spendendo 10 euro in bitcoin oggi che magari in futuro mi varranno 50 euro quindi si da una parte hai ragione dall'altra però ti direi che veramente dipende molto dall'ottica in cui tu lo inquadri perché ci sono molte persone adesso molte forse eccessivo sicuramente non la maggior parte però ci sono persone che magari vedono già bitcoin come moneta per quale motivo perché comunque ricevono pagamenti in bitcoin utilizzano magari anche bitcoin per fare dei pagamenti proprio perché ricevendolo è molto più comodo se tu anziché doverli convertire in euro e spendere gli euro puoi direttamente spendere bitcoin ok quindi stanca un po' lì il fatto che molti di noi cioè la maggior parte non riceve bitcoin come pagamento per dei servizi che offre immaginatevi la situazione in cui incominciaste a ricevere pagamenti in bitcoin direttamente a quel punto perché non lo spendi cioè che senso ha che devi convertirlo per spenderlo spendi direttamente bitcoin quindi è un po' questo secondo me il pensiero o comunque puoi anche dividere non so parte legata all'investimento tra virgolette che non spendi e poi e poi invece parte legata alle spese che spendi oppure come dice giustamente bitcoin bitclub italy la strategia collateralizzare aprire dei borrowing e pagare così non paghi mai le tasse e non vedrai mai i tuoi bitcoin e non venderai mai i tuoi bitcoin anche questa è una è sicuramente una come dire una strategia fattibile questa se vuoi è anche la migliore appunto se sei nell'idea di non voler mai vendere i bitcoin però appunto magari hai bisogno di liquidità per pagare altre cose invece talisman per ios dunque talisman per ios non lo so perché non ho provato a scaricarlo e quindi non ti farò vi farò sapere magari oggettivamente posso provare posso provare a vedere in questo momento non ti so dire so che per telefono ci sono già degli altri wallet tipo polkas polka wallet che però anche questo non ho mai provato forse ce n'è anche un altro tipo sub qualcosa e anche questo purtroppo non lo ricordo invece minterai un dgen ah ok intendi dgen di madmercat si minterò il dgen e non hanno ancora annunciato le date ma probabilmente io prevedo settimana prossima ma come vi dicevo perché lì ormai una volta che ne ho che ho già i primi due collezioni non posso non mintare anche la terza ormai capito sono ci sono addicted passiamo all'atto pratico e facciamo un tutorial con nexocard e non subito perché semplicemente le voglio un po' testare prima anche quella di come si chiama anche quella di bluetooth per dire ecco no purtroppo talisman è sull'estensione di chrome ecco vedi svelato già il misfatto per mobile utilizzo polka wallet creato da cala che è ottimo ok e infatti infatti ricordavo che polka wallet fosse disponibile già per ios però non l'ho mai provato personalmente vi devo dire la verità perché ma in realtà perché con il telefono veramente non lo uso quasi mai però giustamente siccome come anche io in realtà credo cioè la massa adoption passerà per lo smartphone e non sicuramente per il computer anche io devo provare oggettivamente a utilizzare un po' le applicazioni per l'iphone o comunque per android chissà se si intesa la chronos anche dopo l'aggiornamento del 10 di maggio eh ragazzi boh spero di no però non voglio partire troppo con diciamo dei pensieri troppo positivi rimarrei sul fatto che magari magari ci saranno dei miglioramenti dal punto di vista teorico dovrebbero esserci dei miglioramenti però diamogli anche un po' di giorni in più quindi magari il 10 fanno l'aggiornamento e poi un po' di giorni per prendere analisi statistiche magari fare piccole migliorie questo è un po' il mio ragionamento intanto il 9 parla Putin tenetevi forte hai ragione hai ragione hai ragione oppure video per strategie di investimento in bear market avete ragione no ma dovrò fare un video di aggiornamento magari anche sul mio portafoglio anche se non è cambiato nulla in realtà no oddio la parte liquidità è cambiata però sì avete ragione avete ragione ma ce l'avevo un po' già in mente qualcosa del genere quindi sicuramente sì ok aggiornamenti su dove mettere a rendita usn per learn al 20% grazie allora avevamo visto giovedì insieme quel documento medium in cui venivano detti effettivamente veniva spiegato come ottenere quella percentuale di rendimento ma all'atto pratico ancora non a meno che non l'abbiano fatto oggi quindi non so non ho ancora avuto modo di vederlo non si può fare e tieni conto che sicuramente nel momento in cui sarà possibile fare questa operazione qui ne parleremo sia per quanto riguarda usn sia per quanto riguarda usdd quando sarà possibile cioè sono argomenti che sicuramente tratteremo quindi sto solo aspettando che esca la possibilità di farlo e poi lo facciamo insieme senza minimo problema crema finance ho incominciato a dargli un'occhiata sì non ne voglio parlare oggi ma sì comunque me l'avevate me l'avevate già spammato nella chat quindi sicuramente buono ragazzi direi che ah no cos'è sconti per ledger non ne hai? no purtroppo non ne ho quindi non ti posso dare niente mi dispiace buono ragazzi io direi che per oggi ci siamo anche perché una ecco c'era una cosa interessante che adesso mi mi è sfuggita ho fatto due domande non mi ha risposto nessuna Luca no vai Luca vai almeno con una ah no ok ma l'ho vista ok l'ho vista più in alto non l'avevo non l'avevo minimamente vista come si legge il collateral ratio eh su anchor al momento ho una delta neutra all'aperta e mi da 223% cosa significa? significa che il tuo collaterale vale 223% di volte in più rispetto a quello che tu hai preso in prestito e quando leggi minimo 150% vuol dire che la collateralizzazione minima che tu puoi avere è del 150% quindi se il tuo collaterale scende al 150% di collateralizzazione rischi poi la liquidazione quindi in questo momento sei a posto per intenderci devi stare attento che effettivamente non non scenda troppo ok più alta è meglio è esatto più alta è meglio è vai sono un po' in ritardo alla live avevo intenzione di mettere la rendita EURS su UODL allora tra l'altro questa forse l'ho vista anche come commento a qualche video poi non avevo avuto il tempo di rispondere ho visto che ha perso il peg diverse volte EURS cosa dici in merito alla sua sicurezza allora EURS è una stablecoin che è collateralizzata come USDC quindi in realtà ci sono degli euro proprio dietro l'azienda si chiama tipo Stasis euro e hai ragione nel senso che se guardi lo storico completo tipo su coinmarketcap lo trovi anche ha perso il peg ma se effettivamente guardi non ha mai perso il peg in maniera importante del tipo non è mai andata 0,9 9,0 0,8 per dirti e uno dei motivi è anche dovuto al fatto almeno a mio avviso che il volume non è così alto e quindi quando i volumi non sono così alti è più difficile anche mantenere il peg con molta precisione ad ogni modo la collateralizzazione è in stile USDC quindi non è algoritmica per intenderci EURX è quella di Nexo vero? beh lì la collateralizzazione è proprio uno a uno perché su Nexo tu fai immagino che sia quello di Nexo eh sì Nexo ok lì carichi degli euro e tu non devi fare niente lui in automatico te li converte in EURX quindi a meno di fallimento della piattaforma di Nexo puoi tornare indietro direttamente in euro rapporto uno a uno senza dover comprare o vendere buono ragazzi dai io direi che per oggi ci siamo e io vi auguro innanzitutto un buon pomeriggio stasera mi raccomando eh c'è la formula 1 a Miami super brandizzata da Crypto.com no? quindi direi che eh poi vabbè dipende io sono anche un appassionato me la vedrò sicuramente oggi sono le qualifiche domani le gare stasera tipo alle 10 mi pare che partano le qualifiche nel caso ce le vediamo insieme magari farò qualche farò qualche storia buon sabato ragazzi e noi ci vediamo lundi come al solito ciao a tutti e martedì poi a Roma in là direttamente proprio dal vivo eh direi ciao ragazzi forza Ferrari